Ciao a tutti ragazzi, sono fermo qua al tuscolo, allo svincolo. Vedete? Da qua si sale per il tuscolo. Sono fermo perché ci sta un matto con una varraicel che sta facendo qualche cosa. Lui è Davide. Ciao Davide, sta mangiando. Che stai facendo qua Davide? Stiamo facendo l'everesting. Tentativo d'everesting? A quanti metri di dislivello sei arrivato? 3.200. Da quante ore stai pedalando? 6 ore. Da stamattina è 6, è mezzogiorno. Arriviamo quasi a 9.000 metri. A che ora pensi di finire? Dopo cena. Dopo cena. Perché ragazzi, laggiù c'è un altro ragazzo che dopo intervisteremo anche a lui. Sono i due che lo stanno facendo. Ci vediamo nella salita del tuscolo. Eccoci insieme a Davide e Eugenio nella sedicesima salita. Come va? Come va Davide? Eh, come va? Si pedala. Però adesso bene. Abbiamo pranzato e si procede, si procede. Eugenio, professore, professione ultracycling. E' un grande ultracycling questo ragazzo. Ragazzi. No, ecco, quindi proprio ti sta allargando ma di brutto. Però già fa gare ultracycling. Quello si. Quindi non è un ragazzo che sta appena provando di fare un everesting così. No, però il mio primo. Però il tuo primo everesting. Si, il mio obiettivo di stasera è fare quello da 10.000. 10.000? Si. Già subito, il primo everesting 10.000. E va bene. Un mostro. Già che ci siamo. Fabrizio Dolce, stasera questi altri due ragazzi si stappano. Si aggiungeranno alla classifica. Speriamo, intracciamo la vita. Siamo saliti, adesso stiamo al tuscolo. Che salita era Eugenio? Era la sedicesima. Sedicesima salita, ne mancano? Nel caso mio, dunque, 23,7, 27. 27 in totale o 27 te ne mancano? 27 ne devo fare ancora. Ancora. Te invece Davide? 22, 23. Questi sono matti ragazzi, sono veramente matti. Vabbè ragazzi, è stato un piacere salire con voi. No, è stata una tirata del collo. Però è stato un piacere conoscervi. A lui lo conoscevo già, a te lo conosciuto adesso. Noi come al solito ci vediamo al prossimo video, sempre se arriva a casa vivo. Iscrivetevi al canale, gratis. Ciao a tutti. Ciao. Ciao ragazzi.